Picciotti, buongiorno a tutti, io sono Matti e questo è il mio primo unboxing. Oggi a tema Diabolic, infatti è uscito il Diabolic R con la spilletta in omaggio. Andiamo ad aprire. Apertura veloce. Ecco la spilletta, la pin come dice qui, dove troviamo Diabolic con lo fondo giallo e la sua espressione molto decisa. Questo è il fumetto in volo verso la morte. Troviamo il fondo giallo con un bel aereo e Diabolic dietro con il suo solito pugnale. Dietro c'è Sara e i disegni sono di, vediamo un po' di Zaribboni, Montorio e Merati. Sceneggiatura di Recchioni, idea di Recchioni. Questa è la Schleppage, in volo verso la morte. Andiamo un po'. Bello, bello. Pubblicità. L'inedito del prossimo mese. R Swiss del prossimo mese. Anzi, lo Swiss di Luglio. Perfetto. Abbiamo, abbiamo la spilletta. Hola. Cartoncino che si può usare la segnalibro, bene. Questa è la spilla. Un po' lieve qua, peccato. Non è bella fissa, ma ci può stare, dai. Perfetto. Oggi abbiamo spacchettato. Ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale, metti mi piace e condividi. Ciao picciotti.